Gli eventi della settimana a cui io non andrei Buongiorno Eribi, buongiorno Ma che bella canzone Hai visto? Sì, sì, sì Io sono vestita e ahimè ho il seno Quindi sono il contrario della canzone Non ho capito dove volesse arrivare Della canzone di Forti E nessuno che dove volesse fare un'insalata col seno tuo No, esatto, esatto Non c'è problema Canzone che Forti non l'ha mai spiegato in realtà È un po' macabra Che sembra, macabra Cioè ho il tuo stesso problema senza avere l'era remosce No, non ce l'hai perché io lo so dire, macabra Macabra, anch'io so dirlo Non l'ha mai spiegata Molti in realtà dicono Che però è lo stesso di Milano Vincenzo Vincenzo io ti ammazzerò Sei troppo stupido per vivere Era moltomente un po' arrabbiato con la sua donna dell'epoca E quindi diciamo che meglio scriverlo che farlo Mi vengo a dire Scusa ma non si arriva ad Alberto Fortis Eh non sarebbe male Per chiedere Per chiedere Delucidazioni Ho trovato interviste di Luzzato Fegiz E di altri molto più blanati di me E in cui lui ha detto non ve lo spiego Quindi non credo che adesso venga a spiegare Ma beh possiamo provare Come la canzone di Giannaci Bisogna avere orecchie Un po' come ci vuole orecchio Ci vuole orecchio Ecco esatto Allora Eribi come va? Dove vai? Dove non vai soprattutto? Allora intanto parto da una cosa Che c'è per un po' di tempo scoperto Tra l'altro c'è da un po' di tempo Non mi chiedete da quanto Ma fino al 29 di aprile ci sarà Ed è un corso di packaging Per fare i pacchetti Non è che ho visto qualcosa È gratis a bollate 10-16 non so quando Ma non pacchetti regalo No no pacchetti regalo Ah pacchetti regalo Almeno l'immagine che è stata messa È un pacchetto regalo Ah non per fare il packaging di una bottiglia Non c'erano troppe specifiche Quindi va bene così Poi quanto tempo ho? Facciamo tre canzoni e poi tre Ah ok allora vi dico subito Che questa settimana a partire da oggi 11-12-13 Abbiate grasso Quindi siamo anche usciti dalla città Ma non tocca questo tasto Che poi non parliamo C'è una tiktoker che ha fatto un tiktok Dicendo che Quelli di Rozzano che sono di Milano Non possono dirlo Vabbè L'abbiamo sempre pensato Ma nessuno mai ha avuto il coraggio di dirlo Sì ma non è vero Ma soprattutto Cioè finalmente Ragazzi c'è la città metropolitana Milano arriva lì Ormai siamo tutti amici di Milano Certo che quando sei fuori E dici dove abiti A Milano E poi dopo dici Ma dimmi dove No è presente A Magenta Hai presente il centro commerciale Fiordaliso Eh non è proprio Milano Ma ho capito Ma è Milano La città Ormai Milano arriva fino lì Lascia stare che è una polemica Troppo grande Milano arriva fino a Saronno oramai Vabbè comunque Siamo usciti dalla città Siamo andati ad Abbiategrasso Ok Diciamo dalla città Siamo usciti dal comune Dal comune Esatto E raga Ad Abbiategrasso C'è una roba Che secondo me Non ha senso Festival della Valtellina In Brianza Ad Abbiategrasso Allora Allora Io sono sicuro Che tu hai letto male Sono stra sicuro Che è impossibile Che sia così Adesso lo vado a cercare Perché Allora Festival Comunque mi piaceva Il sottotitolo Che si chiama Sefè Mangè Allora Allora Dal 4 al 6 ottobre No non è quello Vabbè mai avanti Lo cerco Lo cerco intanto Ok In poi vi lascio con L'ultimo Primo stacchetto Diciamo Di eventi È che Se vi piace la birra C'è l'ennesima Fest della birra Dove questa volta A Settimo Milanese C'è il Beer Festival Da oggi Fino al 13 di ottobre Quindi potete andare lì E bere le vostre birrette Ok Sefè Mangè Si chiama Ok Allora Sefè Mangè È stato l'ubicchio N scorso No Dal 4 al 6 A Barzanò Che è vicino A Lecco Adesso ragazzi Vado a documentarmi Durante la canzone Vado a documentarmi Perché io non dico Bagianate Ok Ma non è a Baggio È il Beer Festival Non so se Bagianate E Baggio Arrivano dalla stessa Ma secondo me no Però fa niente Ne hai già dati tre Se vuoi far partire La musichina La musichina Va bene No intanto leggo Un messaggio Che arriva da Alberto Che dice Che anche lui Non andrà a un evento Quale? Quale? Io non andrò Alla cerimonia Di inaugurazione Nel M4 Perché potrei diventare Sgradevole Per qualcuno Degli amministratori Bravo Alberto Bravo Anche io Non andrò Perché devo andare In discarica E io devo Ok Devo dire che insomma Alberto Se si arrabbia Si arrabbia Come si dice in milanese? Piccinim Bruticative Ma che rischia Si attacca la caviglia Non ti smolla più Quindi è molto Molto arrabbiato Devo dire Ma hai ragione Delle M4 Effettivamente ti aprono La fermata E' come se Ti aprono la fermata Di là E poi ti dicono Guardi Non può saltare C'è il muro in mezzo Per voi no Io posso Un consiglio C'è una nuova metropolitana Ma per voi no E infatti questo Consiglio Comprate delle canoe Delle barchette E guardate il naviglio Però dall'altra parte Fate così Fate questa azione Di disobbedienza civile Sul naviglio Va bene Allora andiamo con un po' di musica E poi torniamo con gli altri Tre appuntamenti A cui sicuramente Eribi Non andrà Ok La rappresentante di lista La città addosso 7 e 43 minuti Cristel Radio Good morning Milano 331 7853 555 Il nostro numero di Whatsapp Occupate di scriverci Come ha fatto anche Alberto Appunto per dire Che insomma Era un po' arrabbiatino Sul fatto che non Gli aprono la M4 Sotto casa E quindi non Andrà l'inaugurazione Anche per l'incolumità Di assessori Sindaci E vari E stizzito 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 Giustamente Anche vien da dire Fai il mea culpa No No Allora No Aggiorniamo Sul La sua notizia Che hai dato Giusta per metà Diciamo Comunque Ce l'avevo scritto Versus Porca miseria Allora Il festa Tu hai detto che era Festival della Valtellina In Brianza Invece no È il festa della Valtellina Versus Brianza All'altro l'avevo anche scritto È un Format Che sta girando La Lombardia Perché Settimana scorsa Era una Barzanò Questa settimana appunto Vanno ad Abbiate Grasso Che però non capisco Cosa c'entri con la Valtellina In Brianza Settimana prossima Vanno allentate sul Seveso Vanno ad Abbiate Grasso Perché il nome è tutto Ah giusto Abbiate Grasso È di buon auspicio Esatto Comunque Io non ci andrò Vabbè Voi fate quello che volete A me non interessa Cioè Questo è fondamentale Il format di questa rubrichetta È che Io Erika Non ci andrei Ok Voi Fate quello che volete Se poi ci andate Raccontatemelo Perché io sono ben contenta Di saperlo Ecco va bene Ce lo segniamo Va bene Poi Andiamo avanti Ok C'è la Digital Week Milano Digital Week Che quanto dura Quattro giorni 10-14 10-14 Raga Basta Chiamiamo Digital Week Digital Four Days Four Days Chiamiamolo in un altro modo Oh mamma mia Torna per il settimo anno Eh Non ne sentivi bisogno? No Per niente Ok immaginavo Sapevo che la domanda Era così Allora Lascio per ultimo Quello che mi interessa di più Ok Quindi Invece Domenica mattina Se non avete niente da fare C'è la DJ Ten Oh DJ Ten Che se non erro Sono i 20 o 30 anni Credo 10 No 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 Assolutamente Da dove parte? Da dove è partita la prima volta? Cioè dove? Da Piazza Axum Cioè sotto il San Siro E niente Potete andare tutti a vederla Io molto probabilmente Andrò a vedere la gente che soffre correre Quindi può essere che all'apertura Un Aerie B si veda sotto lo stadio Solo per vicinanza Quindi non è proprio Non è vero che non ci andrai No Vado a vedere perché sono una Come dire Ascoltatrice non solo di Cristal Radio Ma anche di Radio DJ E voglio andare a vedere la faccia della gente che soffre Ok solo per quello Esatto solo per quello Va bene Ok scoperto quanti anni sono No 20 anni 20 anni Quindi Ok 20 anni Allora Tu sai quali sono le cose che io odio di più al mondo? I bambini No non è vero Poi Il fuorisalone Il fuorisalone E l'artigiano L'artigiano in fiera E poi c'è un'altra cosa che a me non piace Che è Per te è molto lunga la lista Sono i comici I comici non mi piacciono Perché fanno ridere i più E a me non serve ridere delle cose per cui ridono i più Ok Una roba che io non apprezzo per niente è la stand up comedy Bene c'è la stand up comedy week Che ovviamente però questa è dall'8 al 13 Quindi è una week vera Allo Yellow Square Milan che è in via Latuada Per il costo di 13 euro Ok Puoi andare a vedere questi ragazzi che si esibiscono Allora Andate se vi piace Io non ce la faccio Non rido Mi fa venire la collera anzi Cioè manco non ti avessero aperto l'M4 Manco non ti avessero aperto l'M4 stocca Esatto Anzi come direbbe qualcuno mi sale l'andrangheta E la miseria E quindi non riesco ad andarla a vedere Non ti hanno fatto di male Allora di base non mi piacciono le persone che hanno la presunzione di far ridere gli altri Ma non è la presunzione quella di far ridere davvero Sì 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 assolutamente come no Vabbè comunque So che però c'è un evento a cui andrai Esatto c'è un evento a cui andrò Anche perché è organizzato in parte da me Pensa te Quindi sabato 12 Cioè domani Presso la nostra sede in via Bernabò Visconti 13 La nostra sede intesa di spazio umano Che comunque è un luogo che ha a che fare anche con Good Morning Milano Faremo uno swap party Che cos'è uno swap party? È il party del baratto In sostanza potete portare 10 cose tenute bene Che non volete più E potrete prendere 10 pezzi di qualcun altro che non li voleva più Come si chiama l'evento? L'evento si chiama swap party No si chiama palco e baratto Ah sì giusto Lo so io non lo so lei che lo sta organizzando Va bene Perché oltre al baratto ci sarà anche un palco Dove ci saranno delle esibizioni Sono stanno anche venerdì anche per me C'è anche la stand up comedy? No Ah ok va bene No volevo capire se c'era Va bene Erie B Ah no posso dire un'altra cosa Eh sì lunedì Ragazzi da lunedì M.M.E.R.I.B. Nuovamente on fire Cioè ci sentiamo Ci sentiremo dalle 20 alle 21 su Cristal Radio E torna Trenni Ecco ci ne sentivate la mancanza? No Dovete per forza prendervelo lo stesso Questa va bene Non so come hanno fatto a convincere l'alta direzione di Cristal Radio A ridargli questo spazio Perché abbiamo dei bei visi simpatici Ah ecco perché solo per quello Dei bei visini Va bene grazie Erie B Salute C.M.E.M.E. E andiamo con un po' di musica